Intanto mi presento Alessio Papucci, responsabile di un team chiamato Advanced Technology che si occupa proprio di sviluppare e industrializzare progetti di industria 4.0 all'interno dello stabilimento di Pisa. Già da, diciamo, ormai da 30 anni abbiamo all'interno delle nostre linee di produzione processi altamente automatizzati. Le tecnologie chiave che vengono utilizzate si distinguono nella parte di produzione dei componenti per poi l'assemblaggio degli iniettori, i subassemblati e poi l'assemblaggio e il testing dell'iniettore vero e proprio. Tutta una serie di tecnologie chiave che ci sono all'interno dei nostri processi con linee, come dicevo prima, altamente automatizzate. Negli ultimi anni abbiamo deciso di investire anche in nuove tecnologie, quindi in tecnologie abilitanti industria 4.0 come robot collaborativi, AGV, intelligenza artificiale, 3D printing e che più ne ha più ne metta. Quello che abbiamo visto in questo periodo in cui abbiamo investito e collaborato anche con gli enti locali, le università, le piccole e medie imprese locali su queste tematiche è che c'era bisogno all'interno della nostra azienda di una formazione, intanto di una ristrutturazione e è quello che abbiamo fatto con la creazione del gruppo di cui sono responsabile, cioè avere un team di persone dedicate a pensare a quali possono essere i progetti di industria 4.0 e poi a metterli in atto. E questo è quello che già abbiamo fatto. Lo step successivo è quello di formare queste persone sia da un punto di vista della tecnologia, ma anche da un punto di vista di apertura mentale per capire veramente quali possono essere le opportunità all'interno dell'azienda per fare la caccia agli sprechi con l'aiuto della tecnologia e quindi delle tecnologie di industria 4.0. Da lì, diciamo, quando il professor Fantoni ci ha proposto questo master, ovviamente questo master faceva proprio parte di questo percorso che volevamo intraprendere. e da lì la partecipazione mia e del collega Gestri all'interno del master. Ora, giusto una panoramica di che cosa abbiamo fatto in questi, diciamo, due, tre anni all'interno dell'azienda. Attualmente abbiamo un parco di robot collaborativi a GV intorno alle 30 unità. Contiamo solo il prossimo anno di installarle almeno altre 10, perché andiamo male e ci sarà la ristrutturazione a breve. Quindi, robot collaborativi e a GV che vengono utilizzati, robot collaborativi principalmente per operazioni a bassissimo valore aggiunto, quindi di pick and place, ma abbiamo anche qualche applicazione più recente di assemblaggio. Abbiamo, come dicevo, anche una flotta di AGV per il trasporto del materiale sia all'interno delle produzioni che nell'area del nostro magazzino. Abbiamo già in produzione sistemi di intelligenza artificiale associati a sistemi di visione, per la visione industriale, quindi per la visione di difetti su microsaldature laser. Il primo progetto che abbiamo lanciato circa un anno fa è un progetto in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna. Abbiamo altri progetti implementati in produzione che siamo riusciti a sviluppare internamente. Questo perché? Perché la collaborazione con l'università ci ha dato due aspetti molto importanti. Uno, riuscire a raggiungere l'obiettivo che era quello di mettere in piedi un sistema che riuscisse a controllare le difettosità delle microsaldature, cosa che prima veniva fatta in maniera manuale. Il secondo aspetto è stato quello di fare della formazione, perché questo progetto è stato portato avanti da un mio collega, un mio collaboratore, che ha fatto per un anno formazione insieme alla Scuola Superiore Sant'Anna. E quindi siamo stati in grado poi, quest'anno, di mettere in produzione altri due sistemi completamente con delle risorse interne. Da lì ancora per ribadire l'aspetto della formazione specialistica con le università sia un fattore chiave importante per la nostra realtà. Pur facendo parte quindi di una multinazionale che ha centri di ricerca e sviluppo per queste tecnologie, nella sede centrale, principalmente nella nostra sede centrale in Germania, abbiamo sempre, diciamo, siamo sempre stati pionieri di queste tecnologie, perché secondo noi è, diciamo, la chiave di svolta per la situazione attuale nel mercato dell'auto. Quindi farsi trovare pronti e innovativi all'interno delle nostre produzioni e non solo è sicuramente un aspetto positivo visto dalla nostra casa madre per la scelta di futuri e nuovi progetti. Come dicevo, essendo una multinazionale, avendo centri di ricerca e sviluppo centralizzati, ovviamente potevamo aspettare l'input dalla casa madre per nuove applicazioni. Questo non l'abbiamo fatto. Abbiamo cercato sul territorio fornitori, università, che ci aiutassero a implementare e a sviluppare insieme a noi queste nuove tecnologie. Fino ad arrivare ad oggi, che abbiamo installato a inizio anno un laboratorio interno allo stabilimento di Favuglia, dove progettiamo e sviluppiamo applicazioni di intelligenza artificiale, cobot, vabbè, abbiamo anche delle stampanti 3D. Quello che vogliamo fare nel futuro, che è un futuro prossimo, cioè il prossimo anno, Fantoni mi guarda perché sarà parte di questo progetto, è quello di ampliare questo laboratorio e introdurre all'interno del laboratorio tutta una serie di attività di ricerca e sviluppo nelle tecnologie di Industria 4.0, in collaborazione con l'Università di Pisa, con la Scuola Superiore Sant'Anna, con le start-up del territorio, per far sì che la nostra missione, che è quella in alto a destra, riesca ad avere successo. Ovvero, quello che vogliamo è coinvolgere più persone possibile dello stabilimento, di tutti i reparti, non solo della produzione, perché ad oggi il 99% delle attività che abbiamo fatto in Industria 4.0 sono legate alla produzione, agli ambienti produttivi. ma abbiamo capito, grazie anche a delle discussioni fatte con il professor Fantoni, che queste tecnologie possono essere applicate a tutti i reparti dell'azienda. Quindi quello che vogliamo fare è fare dei corsi di formazione a tutto il personale dell'azienda, per, diciamo, riuscire ad avere un personale che pensi a come può migliorare, a come può dare la caccia agli sprechi con la tecnologia e con la tecnologia di Industria 4.0. Questo ovviamente sarà possibile se riusciremo a fare questi corsi di formazione con personale specializzato. Quindi da lì la partecipazione a questo master e successivamente la partecipazione di diverse persone dello stabilimento a corsi di formazione su tematiche specifiche. Con questo concludo, ringrazio il professor Fantoni per avermi dato l'opportunità a me e il collega Gesti di presentare un po' quello che abbiamo fatto. Spero sia stato interessante.